Incontri a due Incontri a due pianificati dagli organizzatori sulla base di informazioni basilari fornite dalle stesse aziende partecipanti che permetteranno di mettersi in relazione con possibili partner, clienti o fornitori. E' questo lo scopo del Matching Day, un'occasione fondamentale per creare e aumentare la propria rete di contatti e la collaborazione tra le imprese. Saranno le aziende che operano nel settore della casa, della meccanica e dell'informatica ad avere l'opportunità di partecipare al prossimo Matching Day in programma per il 26 marzo a Udine. Torna infatti l'imperdibile appuntamento che consente di sviluppare sinergie produttive, commerciali e finanziarie. I incoraggianti sono stati i risultati dell'anno scorso, quando avevano partecipato ad 800 incontri ben 130 aziende e 7 consorzi di impresa con sede nel Triveneto, ma anche in Austria e in Slovenia. Il Matching Day, giunto alla sua terza edizione, non è una fiera espositiva, ma un momento di incontro e di confronto tra le varie aziende artigiane che fino al 7 marzo potranno presentare la loro adesione telefonando alla segreteria dell'area Strategia di Imprese e Mercato della Confartigianato di Vicenza. È essenziale che quanto prima, almeno entro il 7 marzo, le aziende ci contattino al 392 452, in quanto prima loro danno l'adesione, prima è possibile verificare la possibilità di contatti con altre aziende interessate come loro a questo tipo di incontro. Questo permetterà ai partecipanti di trovarsi già alcuni appuntamenti schedulati sulla base delle proprie necessità e quindi di non perdere tempo nella ricerca autonoma dei partner. Ma non è finita qui perché il Matching Day può rappresentare anche una valida vetrina per proporre al mercato nuovi prodotti realizzati. Un'importante relazione di business quest'anno riguarda il Triveneto, l'Austria e anche la Serbia. È importante parteciparvi perché è un modo diverso per incontrare altri impenditori, hanno 15 minuti a testa per dialogare con persone che hanno affrontato le stesse tematiche o hanno gli stessi interessi, dopodiché se vedono che c'è la possibilità di loro di proseguire con contatti impenditoriali possono farlo sia in quella stessa giornata oppure proseguire più avanti, però è importante che comincino a incontrarsi e che le aziende arrivino già con le idee chiare su quello che loro hanno interesse per seguire.